Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono 4 km di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio per la variante di Valico a causa di un incidente. In A11 veicolo fermo tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Sulla FIPILI segnalato personale su strada per lavori tra Levorno Aurelia e Levorno Porto in direzione Levorno e tra Ponte d'Arest e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per una frana tra Giardinetto e Popiglio e tra Popiglio e la Lima. I traghetti, l'aliscafo, Toremar, Piombino Cavo delle 16.05 è stato cancellato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!